Allora eccoci, buonasera, io sono Pietro Schernera e spero che funzioni tutto e che possiate sentirmi. Ora vi faccio vedere in faccia molto brevemente, anche se è così da questa prospettiva strana, però adesso girerò la telecamera e così potete vedere invece quello che disegnerò. Come sapete questa è una lezione di disegno, chiamiamola così, speriamo che sia una lezione o comunque ci sarà del disegno sicuramente ed è un'anteprima del Festival Scarabocchi che invece sarà a Novara dal 18 al 20 settembre mi sembra. Quindi adesso io giro, mi siedo, eccoci. Intanto provo un po' a spiegare quello che avevo pensato insomma di un po' farvi vedere e un po' di raccontarvi. Io ho scelto come parte del corpo, diciamo, da trattare il naso molto semplicemente perché in realtà ci ho un po' pensato e mi sono accorto che è una delle cose che evidentemente mi piace disegnare. Perché insomma, come penso molti fumettisti, disegnatori, una delle cose che io faccio tipo mentre faccio collezione è prendere un quaderno come questo qui e disegnare cose a caso. E quindi, non so, mi sono accorto che nei miei quaderni ci sono sempre dei nasi di solito visti di profilo perché probabilmente è più semplice. E quindi io adesso faccio quello che farei, tipo che ho fatto anche stamattina, cioè partire proprio a caso perché in fondo un naso è una linea curva, no? Non è niente di più, può essere fatto anche tutto in una linea. Quindi anche andando a caso, alla fine si cominciano a ottenere dei nasi anche molto diversi tra loro. E quindi questa è una cosa che poi mi ha fatto un po' pensare a come i nasi vengono usati, diciamo, nei fumetti, quindi in quello che faccio io. E quindi io ho preparato un po', ho visto un po' i fumetti che avevo nella mia libreria e sono andato un po' in cerca di nasi. E volevo un po' farvi vedere che cosa un po' ho trovato, che cosa mi è venuto in mente. Ecco, penso che insomma un naso di profilo sia in realtà molto molto semplice e si può fare anche più semplice di così. E quindi proviamo a fare un po' di nasi, ecco, questo sembra quasi una parentesi graffa, però ecco, io adesso poi vi faccio vedere cosa sto tentando di fare a memoria. Perché ecco, insomma, il primo fumetto che forse questo un po' ci può assomigliare, assomiglia forse un po' a Charlie Brown e quindi ai Peanuts. E a questi fumetti, insomma, che probabilmente tutti conosciamo, no? Snoopy, Charlie Brown, Linus, eccetera. Volevo cominciare da questo perché, insomma, io nonostante tutti i fumetti che ho letto penso che questo rimanga forse il miglior fumetto mai fatto. Cioè riesce a unire una profondità e una poesia a una semplicità che è veramente difficile da raggiungere. Come potete vedere qui, è tutto molto semplice. Se guardiamo a Charlie Brown come è fatto, il naso, che è quello che ci interessa, è proprio una curva, sembra una C al contrario. Però anche tutto il volto è così, cioè gli occhi sono due puntini, la bocca è un trattino, è un tratto, e poi c'è questo ciuffo che è più uno scarabocchio, oltre alla testa tonda. Anche visti di profilo, i nasi, in questo caso di Lucy e di Schroeder, il pianista, sono proprio dei nasini. Vi faccio vedere questo perché, da un lato, si capisce che è molto semplice, ovviamente, quindi il fumetto ha la possibilità di essere semplicissimo, quindi con veramente un tratto, una curva, poi fare un naso. E questa, tra l'altro, è una cosa a cui ho un po' pensato in questi giorni, non solo in relativo al naso, ma ecco, in tutta questa faccia. Noi capiamo che è una faccia, però in realtà sono due puntini, un trattino e una curva, e questo è il volto di Charlie Brown. E questa è una cosa, io non sono un esperto di scienza e di evoluzione, però a quanto pare è una cosa che noi abbiamo un po' dentro, che nel corso dell'evoluzione evidentemente ci serviva a saper riconoscere subito una faccia, che sia di un essere umano o di un predatore, forse più probabilmente, quindi noi forse istintivamente cerchiamo facce nelle nuvole, nelle rocce, anche negli oggetti, oppure a volte per strada, nei palazzi, insomma, e il fumetto sfrutta proprio questa, evidentemente questa cosa che ci appartiene, come esseri umani, forse inconsapevolmente, però questo è quello che succede. Però questa semplicità volevo farvela vedere perché è una cosa possibile nel fumetto, però ecco, io potrei fare mille volte il naso di Charlie Brown e non riuscire mai a fare come lo faceva Charles Schulz, il suo creatore, nel senso che semplice non vuol dire facile, e anzi raggiungere questo livello qua di essenzialità è probabilmente una delle cose più difficili e credo il sogno segreto di ogni disegnatore. Però è comunque una cosa che è possibile e forse assomiglia quasi più alla voce, no? Che ognuno ha la sua voce, come la mia adesso, e ognuno ha anche il suo tratto. Fra l'altro quello di Schulz è molto interessante perché lui ha disegnato i Peanuts per 50 anni esatti, e fra l'altro quest'anno sono 20 anni dall'ultima striscia, e anche il suo tratto è cambiato nel tempo. Man mano che lui invecchiava si faceva sempre un po' più tremolante, però invece di, diciamo, di perderci da questo, invece ci guadagnava ancora di più in personalità. Ecco qua, vediamo un altro Charlie Brown di profilo, è sempre lì, guardate, gli occhi sono un trattino, anche l'orecchio è una curva, quindi questo è veramente difficile da fare, però, diciamo, andando avanti, in altri nasi, diciamo, del fumetto, diciamo, allungando un po', rimanendo sempre nella semplicità, ci sono nasi un po' più lunghi, ecco, considerando che quelli di Charlie Brown non sono tutti ragazzini, il naso non è la parte del corpo, diciamo, da cui sono più identificabili. Però, andando avanti, e anche magari facendo qualcosa più così, ecco, mi è venuto in mente un altro fumetto, veramente, che fa parte della storia del fumetto, che si chiama Tenten, quindi qua siamo in Francia, nel, forse, il più importante fumetto, nella storia del fumetto francese, e qui vediamo che già le cose sono cambiate, anche se il protagonista è sempre, in questo caso, un ragazzino, che fa il giornalista e viaggia in giro per il mondo, però, ecco, mentre, come sapete, nei Peanuts gli adulti non esistono, è proprio un mondo chiuso di solo ragazzini, bambini, qua, invece, ci muoviamo in un mondo, diciamo, reale, o simile a quello reale, quindi ci sono non solo degli adulti, ma personaggi di varie fasce sociali, di varie parti del mondo, e anche qua, già solo da questa copertina, che spero vediate bene, ognuno ha un naso diverso, lei, questa cantante, ha questo naso un po' a becco, un po' così, questo, ha questo naso con questo baffetto, e questo che è un altro, questo capitano ad hoc al naso così, mi sono segnato un po' di vignette, dove questa cosa si vede, ecco, in una sola vignetta, io spero che riusciate a vederla, qua abbiamo sei personaggi e ognuno ha il suo naso, perché effettivamente ogni naso è diverso, però nel fumetto questa cosa anche può almeno avere un'altra funzione, nel senso che, soprattutto quando c'è un disegno così essenziale, dove anche qua gli occhi sono dei puntini, la bocca neanche si vede a volte, e il naso comincia già a dirci qualcosa di chi è questo personaggio, cioè possiamo anche, ecco, insomma, che se questa signora ha questo naso così, diciamo, caratteristico, probabilmente vorrà dire che anche il suo carattere deve essere abbastanza interessante, questo capitano con questo naso un po' più a patata, ecco, probabilmente, io poi lo so come sono questi personaggi e quindi sto barando, però direi che si può leggere così, cioè lui probabilmente è un tipo burbero ma simpatico, e però, ecco, al di là di questo che può essere usato oppure no, però sicuramente, ecco qui, ogni personaggio ha il suo naso, quindi non solo per distinguerli ma anche per dargli già una personalità, e qui, ecco, risfogliando questo fumetto ho trovato anche una gag che è relativa al naso, cioè sempre lui, questo ad hoc, usando una rosa si punge il naso e che diventa rosso e grosso, e questo mi ha fatto un po' pensare che effettivamente il naso è è una parte del corpo molto molto buffa, e quindi quando i fumettisti hanno capito questa cosa sono cominciati i nasi, ecco, possiamo provare a fare dei nasi veramente grossi e molto buffi, no? Cioè, adesso io sto facendo così anche un po' a caso, ecco, però ormai ci siamo veramente parecchio allontanati dal realismo, eppure questi sono fra i nasi più usati dai fumettisti, e anche qua proviamo a farne uno un po' così, e questo non mi piace tanto, insomma, insomma, aggiungiamoci dei baffi e già passiamo forse a un altro fumetto, ecco che il naso qui è veramente importante, Asterix, siamo sempre in Francia, e vabbè, come vedete, Asterix e Obelix qui in più piccolo hanno questi nasoni veramente esagerati che forse possono richiamare anche i nasi non di esseri umani, cioè nel senso quelli di Disney, di Topolino, eccetera, in particolare mi sono ricordato una storia di Asterix, un'avventura di Asterix, che è Asterix e Cleopatra, dove il naso è un vero protagonista, perché ovviamente Cleopatra, in questo caso, è molto famosa per il suo nasino, e ogni volta che Asterix, Obelix e il druido che li accompagna la incontrano commentano sempre, ma però, quel nasino, e questo è un caso già, secondo me, ancora più complicato, perché qua abbiamo un misto fra personaggi inventati e sempre molto buffi, e anche però personaggi, diciamo, storici, quindi reali in un certo senso, anche se sappiamo veramente come fossero fatti, però che sono stati raffigurati ovviamente tante volte, quindi qui si riesce a tenere tutto insieme, vedete c'è anche Giulio Cesare, che ha questo naso abbastanza già autoritario, e Cleopatra invece sempre con questo nasino a punta, e anche qua, ovviamente siamo in Egitto, e quindi c'è un altro naso importante, la Sfinge, che quando qua ci arrivano Asterix e Obelix, aveva ancora il naso, e qua abbiamo un'altra gag su un naso, cioè Obelix, che si arrampica sopra la Sfinge per vedere il panorama, ed è così, veniamo a sapere come mai non ha più il naso, e lo ritroviamo qua con altri nasi, c'è il naso di Idefix, il cagnolino che annusa un naso, quindi qua siamo proprio, siamo proprio naso su naso, insomma, e ok, e quindi insomma, anche qua, se vogliamo provare a vedere come hanno fatto loro, ecco già Cleopatra, sicuramente, ovviamente io poi, questo è un sacrilegio che io sto facendo, cioè disegnare, copiando questi fumetti così, vabbè, e però anche inventando, insomma, dei nasi simili a quelli che abbiamo visto, ecco, sono sempre dei nasi, e pure facendo qualcosa di un po' più, un po' più inventato, ecco, c'è già un naso così, dove questa, adesso questa gobetta, può essere da varie parti, insomma, si possono complicare sempre di più, e vedere che cosa viene fuori, e che tipo di, magari di personaggi ci vengono in mente, e, proviamo a usare un'altra cosa, ecco qua, siamo sempre di profilo, si può anche provare invece a fare un naso di tre quarti, può fare nasi molto, molto caratteristici, poi, insomma, direi che i baffi sono quasi, vanno quasi insieme al naso, a volte, e, sì, cioè, questa cosa del naso buffo, e, su cui si possono fare delle cose, insomma, penso che, un po' lo sanno tutti, insomma, chi magari si è, fatto qualcosa al naso, un piercing, o altre cose, e, anche questa, con queste narici, ovviamente, non so, una cosa che possiamo fare, visto che parliamo di fumetti, e, spesso la comicità, nasce non solo dal fatto che, è un disegno divertente, ma anche dal, è un fumetto, quindi, non è solo un'illustrazione, ma è un racconto, no? Quindi, non so, la cosa veramente più banale, che possiamo fare, sul naso, è provare a fare così, a farlo muovere un po', e, ovviamente, nel fumetto, non per forza, però, c'è anche il testo, no? Quindi, 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 uno sternuto, diciamo, è sicuramente una cosa, dove c'è già, adesso, questo non so come sia venuto, perché sono un po' storto, però, è già un fumetto, in teoria, questo, ecco, ovviamente si potrebbe farlo meglio, però, ecco, c'è già un'azione che succede, in quattro vignette, anche qua, se non abbiamo i bordi, e, e quindi, ecco, già, non solo col naso, possiamo capire, che caratteristica ha un personaggio, no? Prima su Asterix mi sono scordato di dirvi, no? Ovviamente tutti i Galli hanno questi nasi grossi, simpatici, mentre invece quando c'è, magari, un generale romano, particolarmente cattivo, che c'è da con loro, invece magari c'è un nasino, un po' di quelli all'insù, magari un po' fastidio, cioè, anche caratterialmente, è molto diverso da tutti gli altri, e, sempre nel fumetto francese, questo tipo di naso, insomma, che viene ovviamente identificato con un fumetto che fa ridere, un fumetto umoristico, è stato usato anche da un autore che invece fa dei fumetti molto diversi, diciamo, quelli che, in Italia noi chiamiamo graphic novel, cioè, quindi fumetti, diciamo, non di intrattenimento solamente, ma, insomma, fumetti, anche per adulti, insomma, che vogliono dire delle cose importanti, in questo caso, Lo scontro quotidiano, è uno dei miei fumetti preferiti, e lui è una specie di autobiografia, quindi l'autore si rappresenta così, e anche se è una storia che parla anche di temi molto importanti, essenzialmente parla del diventare adulti, però anche lui ha questo naso, che non è esattamente come quello di Asterix, però è uno di questi nasoni, ecco, diciamo, certamente non realistici, e quindi è un modo in questo caso per parlare di temi importanti, ma sempre con un certo distacco e una certa ironia, è un libro, secondo me, bellissimo, un fumetto bellissimo, perché, appunto, è in grado di affrontare sia argomenti, che ne so, come la crisi dei cantieri di Marsiglia, oppure il rapporto con un genitore, e però anche di fare, in certi casi, ridere, e quindi avere la possibilità di avere questo modo di disegnare che può tenere insieme entrambe le cose, sicuramente è una cosa che è probabilmente proprio caratteristica del fumetto, cioè pur con dei disegni semplici, magari quasi caricaturali, puoi raccontare delle storie importanti. e in Italia, adesso sicuramente io qua non ho niente, però sicuramente c'è anche Giacovitti, che usa i nasi sempre in modo molto umoristico, aveva invece questo fumetto di Bombi, dove lui, in questo caso, racconta, questo sarebbe Jack London, ma secondo me è disegnato come autobiografia, come autoritratto di Bombi, quindi in questo caso c'è un nasino un po' caratteristico, mentre di solito i suoi personaggi hanno questi nasi veramente abbastanza buffi, quindi insomma è un altro caso di come si può usare un naso dal punto di vista dell'umorismo, scusate che intanto sposto cose, quindi anche qui insomma, secondo me se si prova a creare un personaggio, ecco già avere un naso, avere questi nasi qui chiaramente ci dicono molto sui personaggi, cioè ci fanno ridere, oppure magari sono minacciosi, oppure appunto possono essere un po' un po' all'insù, un po' a patata, insomma ci sono tanti modi, e insomma ovviamente a me piace di più disegnare di profilo, perché insomma poi il naso è anche un oggetto un po' strano, che abbiamo appiccicato in faccia, quindi già di fronte, se uno vuole fare un naso diciamo un po' più naso, le cose si complicano, perché ci sono un sacco di ombre in un naso che io adesso non sto facendo, però anche in questo caso si può fare qualcosa di più semplice, cioè un naso di fronte può essere anche così, a volte c'è anche chi gli fa così, a volte magari non c'è appunto bisogno di disegnare il setto nasale, oppure anche se è di fronte possiamo farlo comunque come se fosse visto un po' magari di tre quarti. Ecco, se io provo a fare questo vediamo come viene. Vabbè, mi viene da ridere anche a me. Ci sono però dei personaggi che sono veramente in particolare definiti dal loro naso. Uno, che forse non è molto conosciuto, però io ve lo consiglio perché è veramente un bel fumetto, si chiama Il commissario Spada, era un fumetto che usciva negli anni settanta e il disegnatore si chiama Gianni De Luca, come vedete, e qua abbiamo un naso molto particolare, è un fumetto poliziesco che usciva se non sbaglio sul giornalino o comunque era un fumetto per ragazzi, però insomma per ragazzi già adolescenti, ecco diciamo, e quindi è un fumetto che in realtà a differenza di quelli che abbiamo visto finora è abbastanza realistico insomma e come potete vedere insomma un po' da questi disegni in questo caso c'è un cattivo che però ha questo naso a guzzo come dicevamo prima, adesso anche io ho un naso un po' lunghino così, quindi nessuno si offenda per se vede dei nasi, un naso simile, no? E invece lui, il commissario Spada, ha questo naso molto schiacciato che lo rende immediatamente riconoscibile ovviamente, ma non solo, perché è una citazione da un altro fumetto che si chiama Dick Tracy, che forse avrete presente, comunque anche quello è un fumetto, diciamo un poliziesco americano, e quindi ovviamente disegnare un personaggio con queste caratteristiche, ecco Dick Tracy se ve lo ricordate ha un cappello, ha tutto l'impermeabile eccetera, invece qua c'è solo rimasto il naso, però è chiaro che è immediatamente per chi conosce ovviamente Dick Tracy o almeno più o meno sa di qui cos'è, già si può immaginare in che mondo siamo, bisogna anche tenere presente che questi fumetti uscivano a puntate, no? Quindi ogni puntata probabilmente doveva anche fare in modo di catturare il lettore senza che sapesse niente, no? Di quello che era successo prima, che è una cosa che oggi non esiste praticamente più, quasi più. Qua abbiamo altri nasi, insomma, questo vecchietto, ha un naso molto particolare, e invece questa donna ha questo nasino che quasi non c'è. Su questo adesso poi ci torneremo, sui nasi femminili, perché è una cosa che ho scoperto, ho scoperto, a cui ho pensato preparando questa lezione. Forse il naso più celebre nella storia del fumetto italiano è Zanardi. Questo è un fumetto, ecco, diciamo, sicuramente non per bambini, è un fumetto bellissimo, però anche abbastanza perfido e violento come è questo personaggio. E quindi in questo caso, lui, Zanardi, è questo ragazzo che si muove nella Bologna degli anni Ottanta, ed è veramente perfido, insomma, nelle sue avventure. Pazienza, che il suo creatore diceva che era lo specchio della violenza che c'era nella società, che lui vedeva nella società in quegli anni. Però è anche un personaggio molto intelligente, quindi questo naso, effettivamente, così aguzzo, che sembra quasi una spada, già, insomma, ci può far capire che c'è molta intelligenza, ma anche molta minaccia, no, in questo. E adesso, ovviamente, su Pazienza si potrebbe andare avanti per ore e ore, perché ha disegnato veramente di tutto, però volevo solo farvi vedere come è sempre lui. In questo caso, questo è un fumetto bellissimo, si chiama Pertini, sono le avventure di Sandro Pertini, partigiano, insieme a Pazienza, e quindi questo è Pertini, questo, vabbè, Pertini piccolo, adesso non vi sto a spiegare, questo è Andrea Pazienza, come si raffigura in questo fumetto, che è anche qua, siamo di nuovo tornati sul registro umoristico, Quindi c'è di nuovo il nasone, in questo caso, quello di Pertini sembra quasi, appunto, il naso di nuovo dei Peanuts, però, ecco, appunto, siamo, è una cosa bella di Pazienza che era un autore che poteva passare da uno stile all'altro, anche all'interno della stessa storia, fra l'altro, e così. E io adesso non mi azzardo a disegnare queste cose, perché, perché, insomma, mi sembra che già, che Pazienza, no, è veramente, sarebbe troppo un sacrilegio. e invece volevo, una cosa che ho pensato è che in questo periodo di, diciamo, di chiusura, di mascherine, eccetera, effettivamente i nasi sono un po' scomparsi, almeno adesso sono un po' tornati, però, ecco, col fatto che siamo andati in giro con le mascherine, non so, a voi non veniva da chiedervi, per esempio, non so, a vedere, a vedere una persona per strada, ovviamente uno sconosciuto. Questa cosa di non vedere il naso, anche se l'argomento, insomma, ovviamente non è dei più allegri, però, uno potrebbe anche un po' provare a chiedersi che naso ci sarà nascosto sotto questa mascherina e inventarsi cose anche particolarmente buffe, no? Cioè, e boh, potrebbe essere un gioco proviamo a farne un altro. Non so, chissà, chi magari si vergogna del suo naso, dei premi con il suo naso, magari l'ha vissuta, chi lo sa. Intanto mi sto sporcando tutto, vabbè. Però, ecco, insomma, a parte che ovviamente è coperta anche la bocca, però questa cosa che il naso non c'è, non c'è, non c'è, vabbè, poi ci sono ovviamente quelli che questi nasi che non resistono non resistono a stare lì confinati a volte è buffo vedere questi questi nasi che spuntano così è a proposito di nasi e non nasi nasi che non si vedono mi è venuto in mente invece un altro insomma ovviamente grande del fumetto italiano che è Ugo Pratt e in particolare in questo fumetto c'è a un certo punto uno scheletro che parla e qua parla però ecco la cosa che mi è venuta in mente è che ovviamente lo scheletro il naso non ce l'ha è rimasto solo un buco no? e ecco boh cioè se ci pensate non solo lo scheletro quindi c'è un quando quindi un morto non c'è più il naso ma anche a volte tutte le cose che tutti questi personaggi che noi pensiamo molto lontani da noi come per esempio quando ci sono gli extraterrestri ecco il naso di solito non c'è oppure sono due fissure semmai hanno altre cose però ecco magari hanno degli occhi giganti però il naso ecco non è non è fra le cose che che ci viene da associare a un extraterrestre e è lo stesso per esempio anche se avete presente Harry Potter anche Voldemort no? come questo naso da serpente insomma quindi sono sempre queste due fessure evidentemente deve esserci qualcosa che ci fa pensare che un naso rosso patata è buono come quello di Asterix invece queste due fessure non ci piacciono è una cosa interessante secondo me e rimanendo su Goprat il suo personaggio più famoso che è Corto Maltese anche qua c'è questa penso che sia proprio l'ultima avventura di Corto Maltese siccome si svolge sull'isola di Pasqua anche qua ci sono dei nasi importanti nella storia intanto ho trovato un incontro fra nasi che è sempre direi una classica inquadratura dove c'è questo è Rasputin che anche qua il naso di Rasputin è particolarmente aguzzo è un po' cattivello questo Rasputin infatti e poi quello di Ugo Pratz quello di Corto Maltese che invece è un naso più regolare più rassicurante anche se anche Corto le sue cose le fa e poi c'è questa tavola di nasi bellissima dove ci sono i nasi dell'isola di Pasqua i nasi io ormai vedo solo nasi però vabbè insomma le statue dell'isola di Pasqua dove però il naso è importante e poi c'è questo profilo di di Corto qua non si vede bene a me è sempre piaciuto come lui fa l'ombra del naso però vabbè se se volete approfondite ecco però ve lo facevo vedere anche per altri due motivi cioè perché questo appunto come dicevo è l'ultima avventura di Corto Maltese non mi ricordo bene penso che sia uscita nei primi anni 90 e invece se guardate le prime il disegno di Pratt è molto più classico diciamo ci sono molto più cose molti più tratti e e quindi anche lui nel corso degli anni lo ha sempre di più semplificato e addirittura penso che dicesse che il suo sogno era quello di riuscire a esprimere tutto con una sola linea ecco ecco anche qua ci sono dei nasi belli questo visto di fronte e non so se avete presente come come è fatto come era fatto Ugo Pratt però c'è c'è qualcosa che è di somigliante perché insomma penso che sia inevitabile che chi disegna metta un po' della sua faccia dentro le facce di alcuni almeno di alcuni personaggi perché semplicemente veramente avendoci avendoci sempre davanti è abbastanza inevitabile disegnare se stessi soprattutto per imparare però ecco qua siamo già su un fumetto d'avventura che quindi si muove in giro per il mondo e ovviamente cortomaltese marinaio che vive tutte queste avventure e quindi qua ci si pone un altro problema per quanto riguarda i nasi perché finora diciamo abbiamo visto fumetti che parlano di nasi di nasi europei insomma comunque di personaggi che fanno parte sono vicini a noi però quando invece si parla del fumetto di avventura le cose cominciano ulteriormente complicarsi non solo ogni naso è diverso ma qua abbiamo anche dei nasi anche i tratti somatici cambiano se ci si sposta qua per esempio siamo in Messico questo è Sergio Toppi cioè uno dei più bravi disegnatori che l'Italia ha avuto e qua per esempio c'è un naso femminile però ecco vedete anche i personaggi i nasi dei personaggi devono non solo essere diversi l'uno dell'altro ma cioè nel senso essendo noi fatti in un certo modo magari quando dobbiamo disegnare i nasi di altre parti del mondo diciamo di altri tratti somatici tendiamo magari a farli secondo me rischiamo di non farli bene no? cioè è molto molto difficile perché perché magari bisognerebbe insomma studiarli studiarseli bene qui per esempio sono degli indiani d'America anche qua cioè lui credo che si fosse studiato bene tutte le varie fotografie perché appunto non solo cioè non basta fare il naso che noi diciamo vabbè gli indiani d'America hanno un naso così no ognuno di loro ha un naso diverso e questo secondo me sarebbe molto interessante provare a vedere come disegnatori diciamo di altri posti si disegnano purtroppo il fumetto non è veramente diffuso in tutto il mondo però qua io ho recuperato un fumetto diciamo veramente autoprodotto che viene dalla Repubblica Centroafricana diciamo in Africa di disegnatori ce ne sono perché purtroppo soprattutto nei paesi dove ci sono stati i francesi comunque è una delle cose che sono rimaste evidentemente e e quindi boh sarebbe interessante adesso io ve lo propongo come stimolo andare a vedere come come chi invece vive per esempio qua in Repubblica Centroafricana come disegneranno i nasi loro cioè come si vedranno perché questo discorso ovviamente sul fumetto si fa molto bene se parliamo del Giappone no proviamo a fare un po' a vedere un po' cioè io non sono un grande esperto di manga di fumetti giapponesi anzi per niente questo è un segnalibro ma Miezzati insomma lo conosco adesso qua io non disegno Miezzati però diciamo essenzialmente se avete un po' presente come sono fatti i manga o comunque anche i cartoni animati giapponesi ecco il naso non è certamente la parte più importante sono di solito dei nasini veramente minuscoli poi magari ci saranno sicuramente degli autori di fumetti di manga che invece fanno dei nasi danno più importanza al naso però diciamo che almeno l'immagine classica che abbiamo il naso spesso non è importante perché lì io non so disegnare i manga ve lo dico però comunque fanno veramente quasi tutto gli occhi e a volte anche i capelli però è interessante che per esempio quando invece ci sono dei personaggi che sono invece particolarmente strani anche lì di nuovo dei cattivi ecco se pensiamo per esempio alla città incantata di Miyazaki o comunque nei cartoni di Miyazaki sono quasi sempre le ragazzine le protagoniste però incontrano poi questi personaggi molto strani per esempio nella città incantata c'è la strega che ha un naso tipo così che si chiama Yubaba oppure diciamo i personaggi che più appartengono al mondo fantastico invece lì possono avere dei nasi anche molto particolari e poi un'altra cosa che lui usa molto secondo me sono i capelli e comunque io adesso vi faccio vedere quello che ho questa è Nausica nella Valle del Vento che è anche un bellissimo cartone animato il suo primo però è stato forse prima di essere un cartone è stato un fumetto e come vedete appunto qua il naso è proprio il nasino ovviamente lei è una è una ragazzina quindi qua figurate il color seppia non vedrete niente comunque penso che spero che il concetto si sia afferrato cioè che che non è per forza che il naso deve essere usato deve essere così importante ci possono essere anche si può privilegiare anche altre parti del corpo e tornando un attimo invece ai fumetti che vi ho fatto vedere prima quelli un po' più realistici io a un certo punto mi sono accorto insomma preparando questa lezione qua che a volte i fumetti i fumettisti maschi fanno questa cosa cioè a volte il naso femminile è solo così poi magari c'è c'è una bocca particolarmente carnosa no? c'è oppure non so così è proprio quasi di nuovo quasi smette di esistere questo non fa tanto bene e poi ha anche delle super ciglia e ovviamente penso che questa sia una cosa che magari se appunto tu non sei una donna tendi ti senti un po' forse non sai veramente come è fatto un naso femminile quindi si rischia magari di farlo così perché si vuole corrispondere a un certo canone di bellezza che evidentemente anche chi non vuole ha un po' in testa però e quindi invece è interessante vedere come le fumettiste questo problema proprio non se lo pongono no? lei è Gabriele Giandelli e insomma direi che i suoi personaggi che sono ovviamente spesso femminili ovviamente no che sono spesso femminili hanno dei nasi insomma molto caratteristici molto personali cioè non è sicuramente una parte del corpo che viene trascurata e che siano maschi o femmine cioè è lo stesso insomma e comunque le donne rimangono delle donne insomma quindi a volte forse questa questa riduzione del naso che soprattutto magari in passato alcuni fumettisti facevano non è veramente giustificata un caso bellissimo che ho trovato è di una delle mie autrici preferite che è Marjane Satrapi dove qua il naso è un grande protagonista questo è una storia che si chiama Taglia e Cucci che sono racconti diciamo di famiglia di donne della sua famiglia lei sapete che è l'autrice dei Persepolis è una fumettista iraniana che vive in Francia e che ha iniziato a fare fumetti e qui racconta insomma c'è lei da bambina che un giorno si sveglia e dice non svegliati io opererò il tuo naso e e fa vedere che altre altre donne hanno fatto questa cosa e quindi ancora conferma che il naso può essere una cosa molto buffa molto particolare ecco qua prima e dopo l'operazione qua c'è molta ombra comunque e e anche qua insomma non c'è nessun sono tutte donne in questo fumetto quasi tutte e e i naso insomma ci sono anzi ognuno ha di nuovo il suo naso lei ha questa cosa che usa anche i nei per caratterizzare i personaggi cioè questa è lei e e e ha sempre come nella realtà questo neo vicino al naso che lei disegna e quindi insomma penso che sia che ecco in generale come insomma ormai penso che saprete bisogna un po' conoscere quello che si disegna allora secondo me se si disegna si deve disegnare una donna magari bisogna vedere come le donne disegnano e lo stesso vale per tutto e io direi che come i tempi ormai penso di avervi di avervi preso tutto il tempo che potevo prendervi adesso faccio degli ultimi nasi senza questa angoscia di altri fumettisti bravissimi che mi che mi osservano così giusto per per scaricarsi e poi direi che ci possiamo salutare e ecco un po' tornando a quello che avevamo detto all'inizio di nasi che sono essenzialmente curve e ancora anche così troviamo anche al contrario all'inizio e qua si potrebbe andare avanti all'infinito veramente aggiungere anche altre cose sui nasi tipo gli occhiali però direi insomma che direi che ho preso tutto il tempo che c'era quindi ora eccoci qua spero insomma che vi sia piaciuto io purtroppo non riuscivo a leggere i vostri commenti però grazie insomma se avete seguito e a presto ciao grazie a tutti grazie a tutti